let's go bitches benvenuti a un altro episodio di competitive weapon in death in questo caso affronteremo quelle che sono le armi di black ops 2 e in particolare gli smg come voi mi avete richiesto in questo caso ho preso in esame quelli che sono secondo me gli smg fondamentali all'interno del competitive gaming di call of duty e sono l'msmc lo scorpion e l'mp7 quindi ragazzi via con il video ok bitches via con la prima arma l'msmc per chi non lo sapesse l'msmc è l'arma preferita da tutti i giocatori del competitive perché perché è un smg molto pratico ha un elevato danno ha un caricatore niente male e come vedete qui dalle stat uccide da vicino con un minimo di tre colpi fino da lontano con un massimo di sei colpi però come vedete ha diversi tipi di range cioè arriva fino a 33 poi a 22 quindi vuol dire che da tre shot kill quest'arma diventa un quattro shot kill fino a poi diventare una cinque shot kill e infine sei shot kill quindi praticamente quest'arma aumenta da tre quattro cinque a sei colpi al massimo della distanza sei perché fa diciotto di danno mentre quaranta da vicino il suo rinculo è molto semplice poiché vi basterà tenere il diciamo dall'analogico verso il basso fare doppio y per poter evitare il rinculo di quest'arma io come vedete nel video lo preferisco usare con mirino laser e canna lunga si pare un po strano perché potete tutti utilizzare mentre questa azione rapida ma io mi trovo bene in questo modo perché attraverso mirino laser da vicino potevo vincere quasi tutti i gunfight contro chi giocava deep fire con le altre armi come mp7 scorpion e comunque un ottimo aggancio attraverso il doppio y perché non lo conoscesse è la tecnica che uso io ogni volta su black ops 2 per avere più magnetismo dell'arma sul quando diciamo l'automira mi aggancia una persona e per il gioco per diciamo il gioco mi monitora come se sono in difficoltà e quindi io posso avere un vantaggio sugli avversari vedendo che io sono in difficoltà mi da questo boost che è diciamo di mira l'arma rimane ferma fissa e posso fare anche grandi long scorpionevo anche così qui è un'arma molto bella specialmente per chi è rush o comunque è una hill bitch cioè che si trova sempre nella hill in luoghi stretti e deve difendere qual è la potenza dello scorpion sono i suoi 1250 colpi al minuto che lo rendono le smg con il più alto ratio di fuoco ma non è solo questo diciamo il suo vantaggio il vantaggio è che fa un danno minimo da vicino di 33 cioè vuol dire che è un 4 shot kill mentre invece da lontano come la msmc diventa un 6 shot kill quest'arma ben 32 colpi nel suo caricatore 2 in più rispetto all msmc e 8 in meno rispetto all mp7 è un'arma secondo me fortissima usata con mirino laser e caricatori estesi con gli extended mag perché perché quest'arma potrete comunque shotare gli avversari anche da media distanza perché ha un alto radio di fuoco e comunque se siete in grado di controllare il suo rinculo che è molto simile a quello dell msmc non vi spaventate ma è veramente simile a quello dell msmc sono quasi identici quindi se sapete controllare il rinculo di uno lo scorpion per voi sarà facilissimo mi piace tantissimo come arma specialmente perché gioca in luoghi stretti oppure io comunque la uso quando gioco su mappe piccole o comunque in chad per i rush e altre cose io vi consiglio di usarla in questo modo perché secondo me è una delle armi migliori che c'è utilizzata in questo modo il suo tempo di ricarica è un tempo medio in confronto all msmc che è quello più lento tra questi tre smg esaminati mentre invece lo scorpionevo al tempo di ricarica medio in questo caso 1,4 secondi di ricarica normale mentre due secondi quando il caricatore è scarico mp7 quest'arma pure è stata diciamo molto pratica all'interno del competitive è un'arma con cui si può fare un pochino di tutto come l msmc il suo vantaggio è di avere un alto radio di fuoco in confronto all msmc che è di 937 colpi al minuto che è tantissimo in confronto a un msmc che ne spara solamente 750 ma qual è anche il vantaggio di quest'arma è il suo discreto rinculo che ha verso diciamo verso destra e verso sinistra rinculo è solamente verso l'alto quindi è facilmente controllabile oltre a questo quest'arma è come lo scorpion hanno più o meno lo stesso danno cambia solamente il range come vedete dall'immagine l mp7 fa ben 33 di danno fino a una distanza di quasi 20 yard se non sbaglio mi pare sia in yard questi dati quindi diventa un 4 shot kill fino a diventare un 6 shot kill al massimo della distanza ha un caricatore da ben 40 colpi che lo rende utilissimo specialmente in mappe piccole o comunque per chi cerca di fare feed o cose del genere il suo tempo di ricarica è cortissimo solamente 1,3 secondi con il caricatore ancora carico mentre 1,8 a caricatore completamente scarico io vi consiglio di usare quest'arma se potete con estrazione rapida e canna lunga per aumentare la sua gittata e quindi aumentare anche il danno che potete fare a elevate distanze è un secondo me uno degli smg più forti specialmente in pubblica in questo caso nel competitive io preferisco l msmc come tutti sapete ma non diciamo che l mp7 mi piace abbastanza trovo ottimo il suo hipfire trovo ottimo il suo rinculo quindi un'arma veramente pratica da usare in competitive e io ve lo consiglierei di usare per mappe come slums o anche ride ok let's go butch siamo arrivati alla fine del video io voglio chiedervi allora quali armi volete vedere nel prossimo episodio la mia idea era di affrontare un episodio tra fall versus m81 versus ak fatemi sapere se vi piace questa idea sempre qui su black ops 2 io amo questo gioco cazzo mi trovo troppo bene a giocare qui su black ops 2 non potete capire quanto sono felice di poter tornare a giocare sulla 360 mi trovo meglio con il joystick con la sensibilità con tutto cosa che non mi trovo allo stesso modo con l'xbox one per quanto riguarda quello che voi già so so già cosa state per chiedere ma black ops 2 sarà come black ops 3 no ragazzi scordatevelo questa cosa black ops 3 sarà un cambiamento totale rispetto alla saga di black ops perché ci sarà il flinch perché ci saranno comunque dei boost movement i perk saranno diversi però per quanto riguarda le armi possiamo trovare delle similitudini con la msmc con la m81 e con le altre armi sempre della storia della treyark comunque spero vi sia piaciuto questo video fatemi sapere qui sotto nei commenti che armi volete vedere affrontate se vi piace questo competitive weapon in death o volete che mi sposti su advanced warfare perché mi sarebbe piaciuto fare anche una sorta diciamo di weapon in death su quelle che sono le varie categorie non le varie categorie le varie armi rare per esempio cosa cambia tra uno speakeasy e uno strider qualcuno di voi lo sa pensate che quello che vedete nelle statistiche sia tutto no non è così ci stanno un sacco di cose quindi fatemi sapere bitches se vi piace questa idea io vi saluto let's go bitches